allora ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video praticamente oggi è la parte 1 dello speciale dei miei iscritti allora oggi vi spiego un attimo cosa andremo a fare ma non speciale perché questo non era speciale perché non c'ho tanto spazio il telefono mi tocca liberare lo spazio dopo e mercoledì farò proprio il lo speciale allora prendete vi andrò a mostrare un po di robe un po di novità poi qua dovrò dire una settimana in questi giorni e vi mostrerò un po tutto nello speciale grazie mille a tutti per i miei iscritti ci vediamo a mercoledì